ciao a tutte oggi volevo fare una specie di video tutorial o get ready with me riguardo al makeup che avevo sul video delle candele è molto semplice veloce da fare pochi prodotti e abbastanza molto carino comunque l'effetto abbastanza d'impatto diciamo e niente quindi vi lascio al video e spero che vi piaccia ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti